Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di mantenere la distanza di sicurezza e di guidare con prudenza. Per la mobilità il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della regione. Ricordiamo in Fipili sono in corso i lavori all'altezza del Turbone, con possibili disagi tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Uno sguardo al traffico ferroviario per un guasto temporale agli impianti di circolazione, attualmente risolto nella stazione di Castellina, i treni regionali potranno subire ritardi e variazioni. Al momento sono coinvolti due treni regionali con ritardi tra i 21 e i 24 minuti. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, da quest'oggi, tra l'altro per i cantieri, al via la riasfaltatura del parcheggio di Viale Corsica. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!